Il municipio di Augusta, siamo con la dottoressa Cocciuffa della terna commissariale per capire come vanno le cose, almeno per quanto riguarda la sensibilità dei commissari che amministrano Augusta e lo faranno fino a marzo 2015, perché c'è stata un'obiezione da parte di qualche gruppo politico riguardo alla vostra presenza fisica, oppure no, è per una questione importante ambientale. Come rispondete voi? Questa questione è stata sollevata recentemente a seguito di questa riunione che si è tenuta al Ministero dell'Ambiente, in cui il comune di Augusta è vero che non era fisicamente presente, però quello che bisogna dire, bisogna dire anche per una correttezza di informazione. Il comune ha fatto le sue valutazioni, ha esaminato la vicenda anche alla luce ovviamente delle osservazioni che sono state formulate dagli uffici, con la collaborazione anche delle persone che ci danno un supporto in questa materia, e tanto è vero che si è ritenuto di predisporre una nota formale di risposta che è stata fatta avere al Ministero dell'Ambiente per tempo, quindi il Ministero dell'Ambiente aveva già una comunicazione ufficiale di quello che era il pensiero del comune di Augusta. Allora voi come mai pensate che sia stata questa accusa, questa obiezione? La presenza fisica non era importante per caldeggiare il problema, la risoluzione del problema in sostanza? Guardi, io non lo so se la presenza fisica era più o meno importante, io so solo che sappiamo che era una questione di carattere intanto squisitamente tecnica, perché c'era un ulteriore esame dell'AIA già fatto, quindi qualche cosa che è stato confermato, quindi nei termini in cui era stata definita nel 2011, certo sicuramente su questa cosa forse si è appuntata l'attenzione, probabilmente è un momento anche particolare in cui questi temi ambientali sono anche tornati in qualche modo alla ribalta, quindi noi riteniamo che sia stato corretto il nostro percorso fatto, certamente se ci saranno ulteriori, probabilmente ci sarà un'altra riunione a breve, alla luce anche di quelle che sarà il contenuto e quindi i temi che saranno trattati, faremo le nostre valutazioni al fine di decidere se essere presenti fisicamente, perché tante volte non è il problema della presenza fisica, il problema è quello di far sapere, di far conoscere quelle che sono le intenzioni e le valutazioni che il Comune ha fatto. Da questo punto di vista vi sentite a posto, per quanto riguarda invece altre tematiche, vogliamo dare alcune informazioni, voi avete acquisito al Comune la gestione adesso dell'acqua, diciamo così tanto per usare parole povere, gestione della riscossione anche dei tributi, il 30 settembre scadono anche i termini per consegnare l'autolettura, poi per tanti anni abbiamo pagato la tassa sulla depurazione ma il depuratore non c'è, avete qualche lume da dare ai nostri ascoltatori? C'è un lavoro in corso su questo, è un lavoro complesso a cui sta lavorando proprio una struttura vera e propria, è un lavoro che dovrà portare a far sì che in questo Comune ovviamente venga fornito un servizio, possibilmente anche con tutta una serie di interventi che almeno nei primi, diciamo prima faccia sono stati fatti, di sistemazione di condotte, adesso si sta vedendo anche un po' di lavorare su nuovi pozzi, ecco tutto quello che dovrà essere messo in campo da un punto di vista tecnico per la fornitura del servizio. Chiaramente parallelamente andrà sistemata, andrà definita la problematica riguardante la riscossione dove c'è un po' di confusione, quindi diciamo che questa dell'autolettura è stata una cosa, insomma è stato intanto l'unico strumento immediato per consentire a chi veramente sente anche di avere un senso civico, io mi auguro che questo ci sia, di comunicare quella che è la propria situazione, questo consentirà agli uffici di fare poi il passaggio successivo, perché ovviamente il passaggio successivo poi sarà la bollettazione. È la bollettazione, ma chi non farà l'autolettura sarà visitato a casa? Esattamente, andremo poi a vedere tempi e modalità anche di queste verifiche. E per quanto riguarda il depuratore, ormai abbiamo le acque? Il depuratore è un problema di progetti, è un problema di risorse, è un problema che si deve anche capire chi deve fare che cosa. Abbiamo delle interlocuzioni anche con la Regione, con le difficoltà che potete immaginare.